Il debito del Comune mi ha preoccupato sempre perché il Comune che ha una zavorra del debito così grande che oramai è stato valutato in maniera esatta in 5 miliardi, è una zavorra molto importante quindi abbiamo bisogno, come spesso ripetuto, di un sostegno per fare in modo che la città possa ripartire e possa esprimere tutte le sue potenzialità. Quanto è distratta la città? È ottimista, sono fiducioso.